ai microfoni con il Nono Sonno e cari amici telespettatori e cari amici radioascoltatori benvenuti ad una nuova puntata Pupi e Pupi Management qui al Nono Sonno questa sera con noi ospiti in studio Alessandro Ciccarelli professione? Non lo so mentre qui? Giancarlo Omeo professione? Non lo so abbiamo due personaggi importantissimi due grandi PR questa sera si fanno compagnia con noi negli studi e prima di parlare un po' con loro dobbiamo dare la linea a Carmen che si trova al Gola grazie della linea Paolo in questo momento ci troviamo nella main room del Gola e posso confermare che tra poco edizzerà la presentazione il patito sopare di chi osa sognare voi come ora la morte è ancora sempre grandioso sempre grandioso con le presentazioni non si fermano più davvero meo ci dobbiamo spostare preso il privé del gol andiamo a Sommac privé con Gigi Squillante andiamo a vedere grazie per la linea ed è qui con noi alla Sommac Gigi Squillante ciao Gigi ciao a te come va tutto bene abbiamo riproposto anche in questa stagione 2008-2009 quello che avviene poi per il Dolce Vita tre sale per situazioni diverse la mia è Sommac quella in spiaggia d'inverno non siamo in spiaggia ma siamo al centro tra Ion e Gola una cosa che ci tenevo moltissimo a sottolineare ed era innanzitutto l'appuntamento di Pasqua domenica 12 di aprile saremo alla grotta mi raccomando non confondetevi tutta la squadra Gola Pupi e Pupi il contact tour Dolce Vita sarà alla grotta di Palinuro all'interno del centro turistico Stella del Sud e poi altra cosa importante ci stiamo preparando alla grande estate del Dolce Vita e quest'anno una delle tante iniziative del Dolce Vita parte subito il primo calendario Dolce Vita 2009 quindi inviateci tutte le vostre foto fatte al Dolce Vita speditele all'email contatto chiocciola pupipupe.com e potrete essere protagonisti del primo calendario Dolce Vita 2009 ciao e grazie so much privé Dulce si è furto il momento di dare ridare la linea Carmen che si trova all'Ion World Club vi ringrazio per avermi ridato la linea siamo all'Ion andiamo da Lico P ti dico ti dico non confondetevi cosa mi rispondi Pupi e Pupi Management Pasqua 2008 12 e 13 aprile siamo tutti alla grotta Caprioli Palinuro ci siamo noi ci siete voi sempre solo Dolce Vita in Tour e venite ragazzi non potete fare a meno di mancare a questi tre giorni di divertimento continuo come va questa serata a Lyon la serata a Lyon va benissimo la Lyon è tutto a voi la linea in studio grazie Carmen davvero molto particolare e molto bello come riposte tutti è il momento adesso di dare la linea così al boss ragazzi c'è la linea al boss Carmen è sempre in capo è il presidente e allora è il momento di dare la linea alla direzione due sono gli appuntamenti carne di questo di questo progetto targato non ho sonno che sono quelli che ci accompagna che ci accompagna la Pasqua quindi al 12 di aprile vogliamo spiegare giusto così velocemente cosa tratta quindi l'evento di Pasqua la Pasqua noi da anni ormai abbiamo abituato i nostri amici i nostri clienti a questa gita fuori porta che andiamo andiamo in quel di Palinuro due anni fa siamo stati alla grotta l'anno scorso eravamo in quel del ciclope quest'anno siamo ritornati alla grotta la domenica di Pasqua il 12 di aprile la la serata di Pasqua quindi la grande festa e dalle 16 in poi il giorno dopo quindi lunedì in Albis questo splendido happy hour ormai abbiamo abituato i nostri amici e facciamola due giorni di Palinuro stiamo lavorando già da un po' di mesi per questo questa splendida inaugurazione almeno ce l'auguriamo di questa struttura ancora una volta rinnovatissima che è quella del Dolce Vita però avremo modo e tempo per pubblicizzarla viene la stagione estiva lasciamola dire abbiamo avuto un inverno veramente piovosissimo freddissimo è nevoso quindi quando quando inaugura il Dolce Vita inizia l'estate quindi c'è una verde in più un piacere in più perfetto amici telespettatori General Manager qui di tutta la struttura Armando Mira vi saluto a tutti grazie a tutti ciao rieccoci in studio benissimo benissimo perfetto ragazzi Alfa dai gli appuntamenti dove ci incontriamo la prossima volta su Radio Azzurra Network www.radiazzurronetwork.it per essere collegati con noi dalle 24 alle 4 mentre in televisione www.pupipumpe.com potrete così vedere tutti i video inerenti in nostro locale e tutte le foto del nostro locale quindi non resta soltanto che salutarvi di salutare Cicameo e non resta soltanto di dire alla prossima puntata alla prossima ciao a tutti